Monsignor Capovilla, sono Papa Francesco. Volevo ringraziarla, mi è arrivato il suo pieghevole per Pasqua. Santità, mi prende la sprovvista, mi manca la parola, ma questa santità si degna di telefonare a un vecchio prete. L'amore è stato molto giusto, in questo paio giocava, Jorge, Giorgito. Su famiglia venia tutti i domingos a misa, con tutti i ragazzi. Quindi Giorgito era come della famiglia per noi, da piccola. Nonna Rosa è una figura centrale per la sua esistenza. Ci sono dei suoi insegnamenti di santità semplice, di questa santità che si vive giorno per giorno, che lui ha appreso da sua nonna, che è la santità che veramente lo affascina. Il che non vive per servire, non serve per vivere. Il nostro paio è un paio è difficile, è un paio con molta adrenalina. Por favor, aiutennos, aiutennos, por favor. La dictadura è stata anche noi, perché aiutennos era difficile. Certo, alcuni alegi personaggi parlano di la dictadura come se tutti erano erovi. Non c'erano solo due campi, due violenze. Due matavano. Lo che stavamo nel medio era molto difficile, molto difficile. Nostra città, per molti di questi abitanti, è una piccola di carne. E' un paio con la humilità di che bisogna andare a le periferi. Periferi geografici, periferi sociali e periferi existenziali. Non si aveva detto prima di così. Ci ragazzi che non hanno bisogno di cuore. Ci ragazzi che stanno in la calle revolvendo la basura per cuore. Ci ragazzi che stanno limpiando vidrii invece di andare a la scuola. Il raguolo è un amico, possiamo dire che è un compagno di luce, di una conducta inspiradora, diciamo. Quando lo tildano di direzza, non lo conosco. Lo tildano di izquierda, non lo conosco. Osea, il governo non ha linea. Se dice che ascoltava a tutti i politici di tutte le ideologiche di partito. che ascoltava molto, ma prendia le decisioni di soledà. Il potere solo ha sentito se sta al servizio del bene comune. Ho deciso di rinunciare al ministero che il Signore mi ha affidato, in piena libertà. La Chiesa sembra, ed è, in una grande crisi. C'era un grande timore, anche tra i cardinali, che sono venuti a Roma senza un candidato. La Chiesa sembrava che avevano la capacità di governare, che potrebbe ottenere il sistema controllo, ma che era un outsider per il sistema e che aveva le same frustrazioni che hanno sentito. C'era un santo. È come io, dico, lui se lo merece, che sta dove sta. C'è una domanda di qualcuno che parli di amore, di speranza, di misericordia. Bergoglio l'ha capito per la sua fortissima esperienza dell'umano. La gente ha bisogno di modelli, ha bisogno di figure di riferimento. L'ideale evangelico non è astratto. In the arc of a year, he has utterly transformed the way people look at the Catholic Church. Fratelli e Sorelli, buonasera. Grazie. Grazie.